Eseguirò i quattro improvvisi di Schubert, una trascrizione dallo schiaccianoci di Tchaikovsky fatta da Pletniev e i 12 studio opera 10 di Chopin. Sul palcoscenico del Teatro Petrarca di Arezzo, uno dei pianisti più conosciuti ed apprezzati al mondo, Pietro De Maria. Un appuntamento con la grande musica che è stato organizzato da Camu in collaborazione con il comune di Arezzo. Un appuntamento con la grande musica che è stato organizzato da Camu in collaborazione con il comune di Arezzo. Un appuntamento con il comune di Arezzo. Che segna l'inizio del secondo anno, che vedrà finalmente l'apertura delle classi di triennio. Tra l'altro a quella di canto si aprirà violino, violoncello e flauto e pianoforte. E poi ci saranno gli appuntamenti per i bambini nell'ultima parte del 18 con musica Mi. Grazie. Grazie. Grazie.